ah ma che hai fatto papà? eh? muro! oh! tu! ti puoi mangiare? eh? oh! tu DJ tu! pure tu! tu che ti fai? tu voglio! ma che fai? non puoi andare a mangiare! ma perché ti metti a piangere? cioè io sto rischiando la vita con i muri! dai che è il numero del napoli! napoli 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 i ragazzi della curva b non mi tolgo non mi ha gustato questo cazzo di mangiare! oh! e qua! comunque il cervo si è fissato là? eh? questo è il mio vino per me quando avete fatto questa fonte di cervello! ah boh! ma che cazzo? questo è il cervo australiano! ma perché ora? sta andando bello a parlare!